Davide Casario, allenatore del Sant'Angelo Rimosano, arriva un pilotecnico 7-3 sulla Frendana in questo scontro playoff, partita veramente divertendissima, è successo di tutto, errori dei portieri anche. Incredibile, era un sacco di tempo che non vediamo una partita così, però al di là degli episodi il portiere Loro ha fatto un errore grande, il nostro due errori grandissimi, si è vista la voglia, la forza di questa squadra che abbiamo perché parecchie squadre avrebbero mollato, soprattutto il primo tempo sotto 2-1 con un episodio incredibile perché poi lo vedrete, ha toccato l'abito e il pallone, si è continuato a giocare e poi hanno segnato su punizione, però ci sta, nel senso che comunque Loro hanno fatto un buonissimo primo tempo e anche noi, poi dopo c'è stato l'episodio che all'inizio del secondo tempo ha cambiato tutto, nel senso che il portiere ha fatto un errore tecnico come dicevamo, ha perso la palla, rigore ed espulsione e la partita si è messa bene per noi e poi va bene, al finale anche grazie alla freschezza atletica abbiamo dilagato e va bene così, siamo contenti. Mister, state bene e si vede, venite dalla bella vittoria sul campo della difesa grande porticone, 4 reti, 7 in questa partita, 11 gol in due partite, state bene, si vede e siete pronti anche per i plof, state ancora lì, toccate quota 50. Sì, guarda, una soddisfazione incredibile perché toccare quota 50 quest'anno, 55 l'anno scorso, fa sì che questa squadra ha fatto 105 punti in due partite, mancano in due stagioni, scusate, e mancano ancora due partite alla fine di questa, è veramente per noi qualcosa di importante, soprattutto fare 50 punti con questo campionato perché, come abbiamo detto anche le altre volte che ci siamo visti, questo campionato è molto più di livello, è molto più alto di quello dell'anno scorso dove sì, c'erano il Mondonore e Fortore, però poi dopo c'erano squadre, sì, c'eravamo noi, Toro e qualcun altro, invece quest'anno parliamo veramente di 8-9 squadre molto molto competitive. Grazie a tutti.